Quando Carmine Tomasone mostra una delle sue tante cinture, i piccoli alunni dell'istituto comprensivo di Prato la Serra rimangono senza parole, l'emozione è davvero palpabile. Sono loro i protagonisti della manifestazione recitando racconti di sport durante la quale il Pugile di Contrada e Gigi Molino hanno raccontato la loro esperienza nel mondo dello sport e risposto alle domande dei bambini. Perché lo sport implica sacrificio, crederci, continue rinunce, vivere i propri limiti, le proprie capacità, quindi è uno sport di vita, è una palestra di vita perché ti consente di vivere ampiamente il tuo ruolo e di crescere in modo sano. Lei conosceva Tomasone Molino da sportivi? No, sono onesta, non li conoscevo. Sta scoprendo due bei personaggi. Io sto scoprendo, ecco l'ho sottolineato agli studenti stamattina, che in primo luogo dobbiamo vivere il senso di appartenenza. Questi due sportivi sono sportivi della nostra terra. Al sindaco di Prato la Serra, Emanuele Auffiero, brillano gli occhi quando ricorda le gesta del drago. Sono due figli della nostra terra, come diceva la dirigente. L'ho detto pure durante il mio intervento, io ho seguito molto di più le gesta di Gigi Molino, essendo tifoso dell'Avellino, quindi mi è rimasto proprio nel cuore, però anche con Carmine Tommasone, che ho conosciuto proprio quest'estate perché c'era la possibilità di fare qualcosa qui a Pratola, poi per questioni di tempi ristritti non si è fatto. Speriamo di rifarci l'anno prossimo e quindi favorire anche la presenza di una riunione di boxe qui a Pratola.